Ciao a tutti da Salvatore, direttamente da Radio Roma Capitale, eccovi qui, mi trovo con Rocco Borsalino, ecco qua, allora Rocco, ci vuol far vedere qualcosa di speciale, ecco adesso lo seguiamo, vai! Allora, guarda, abbiamo una moneta grande e una moneta piccola, riesci a vedere, perfetto, benissimo, bravo, grande e piccola, questo è il gioco dell'euro pesante, grande, metto in tasca, grande o piccola, piccola, si vede? Piccola e grande, piccola e grande, piccola in tasca, piccolo e grande, che dici? Grande, 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 esatto, tutte e due, rifacciamo, attenzione, piano piano, grande e piccola, piccola e grande, non ho le maniche, quindi lavorano male, niente, niente, si piccola, non ho le maniche, facciamo vedere qui, no? In realtà rimane qua, ah, et voilà, receso fe, complimenti Rocco, facciamo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono, ciao, ciao Rocco Borsalino, ecco, dove ti trovano, sul web? Eh, Rocco Borsalino, Facebook? Sì, Facebook, Facebook, Instagram? No, Instagram no, a breve, piano piano, piano piano, saluti a tutti, ciao! Ciao!